Sui fatti di Parigi, noi siamo in un territorio di frontiera, ha avuto delle indicazioni particolari da parte del Ministero in questi giorni? No, il Ministero dell'Interno ha diramato una nota in cui ha invitato tutte le prefetture e tutti i prefetti a convocare una riunione con le forze di polizia, cosa che anche da Grigento si è fatta, è stata fatta sabato, nel primo pomeriggio. Abbiamo considerato ciò che come pianificazione già esistente, piani provinciali sia sui posti di blocco, sia per la gestione dell'emergenza e degli eventi di natura terroristica, sono pianificazioni anche abbastanza recenti perché le abbiamo concluse in questa estate. Abbiamo verificato, così come peraltro ci era stato richiesto, di verificare la rispondenza di quelle pianificazioni alla situazione attuale, cosa che abbiamo fatto, contestualmente comunque impartito un'accelerazione a quelli che sono i servizi che sono di controllo del territorio, anche di carattere info-investigativo, tutte quelle misure di carattere precauzionali che sono necessarie per governare al meglio un frangente come questo che comunque è delicato, ma è delicato per Grigento come lo è per tutto il nostro paese.